Sabato scorso, nell'ambito delle iniziative della mostra Dalla Polvere alla Luce allestita a Camerino a cura della dottoressa Barbara Mostrocola, direttrice dei musei di Ocesani e Civici, con alcune delle opere recuperate dopo il sisma, si è svolto il terzo incontro dedicato alla presentazione del restauro della Madonna di Valpovera, un capolavoro attribuito allo stesso scultore che ha scolpito la Madonna di Macereto e conservata fino al terremoto nella chiesa di Calcina di Camerino. L'opera è stata esposta alla mostra degli uffizi del 2017 e il suo restauro è stato offerto dai Rotary Club facenti parte dell'area Toscana 1. La restauratrice Anna Fulimeni ha avuto modo di illustrare nel dettaglio tutte le fasi del suo lavoro che ha consentito di poter nuovamente ammirare la scultura Ligna nel suo splendore originale. All'incontro non hanno fatto mancare la loro presenza l'arcivescovo Francesco Massara e l'assessore alla cultura del comune di Camerino Giovanna Sartori, che ha voluto ribadire ancora una volta la volontà della città ducale di mantenere fede alla sua vocazione culturale, ricordando anche che la mostra sarà ancora aperta fino al 3 novembre e a tutt'oggi ha visto la presenza di circa 1250 visitatori. Grazie per la visione!